Acquista un gelato e poi solo gusta a pochi metri oltre il bar dimenticando le disposizioni e viene multato. E' accaduto ieri sul lungomare di Sapri dove un avventore che voleva probabilmente godersi una passeggiata addolcita da un gelato artigianale ha trovato ad attenderlo un vigile urbano che gli ha subito contestato l'infrazione. Sì perché i bar possono fornire solo prodotti da sport o con consegne a domicilio, nel senso che il gelato e il caffè una volta acquistato deve essere consumato a casa per non creare occasioni di assembramento. 280 euro la multa combinata all'uomo incredulo. A Sapri non si sono dunque arrestati controlli neppure nella fase 2. Si cerca di ammonire, di avvisare, ma non sono mancati i verbali a chi non rispetta le regole di questa fase, in particolare l'obbligo di mascherina. L'infrazione di questa norma è costata già 400 euro a 4-5 cittadini. I carabinieri della stazione di Sapri e la polizia municipale continuano la loro opera sia pure in maniera più soft. I numeri delle infrazioni infatti sono più bassi della fase 1, ma le punizioni sono ugualmente salate e in alcuni casi anche l'unico motivo per cui le norme vengono seguite. I barra aperti stanno rispettando le disposizioni, bloccando l'accesso all'interno anche con banconi davanti all'ingresso, ma c'è ancora chi invece, tra la gente, consuma il caffè caldo poco distante dal bar o, sull'obbligo di indossare dispositivi di protezione, nicchia. E la mascherina è diventata come la cintura dei tempi, portata alla bella e meglio in attesa di porla al posto giusto alla vista della gazzella dei carabinieri. E dove i controlli sono minori, aumentano le superficialità. Non così a Camerota, blindatissima sin da inizio emergenza. Qui la fase 2 è iniziata con la riapertura di qualche bar, l'avvio delle manovre di montaggio da parte di qualche lido e anche con una quarantina di rientri da altre regioni a causa delle aziende chiuse. 20 le ordinanze di isolamento domiciliare emesse dal sindaco. Per il resto però non si registrano infrazioni o verbali elevati. Generalmente, ha detto Mario Scarpitta, i miei concittadini stanno seguendo responsabilmente le disposizioni. Grazie.